E' in capo alla regione la responsabilità politica della distruzione delle colture, il rischio sempre più elevato di incidenti per la mancata gestione della proliferazione dei cinghiali. Senza nuove norme e fondi dal governo, tuttavia, la burocrazia resterà infinita, così come l'emergenza. Nessun rappresentante politico irpino a Roma si è fatto carico del fenomeno, forse neppure sollecitato dai livelli regionali. Le distanze tra territorio e rappresentanza politica si allargano. Il cinghiale ora fa paura, bussa alle porte dei bar, nei centri urbani ha fame e distrugge campi coltivati, deprezza uve e vini di straordinaria qualità, sbuca sulle strade e provoca incidenti. Per gli abbattimenti in deroga, la vecchia legge regionale sulla caccia è stata bloccata dai ricorsi. L'ingorgo burocratico impedisce l'adozione di piani straordinari di controllo, servono mesi per i pareri. Il problema esplode e neppure quest'anno si risolverà definitivamente. Agricoltori, sindaci, esponenti universitari, gli stessi politici se interpellati, confermano tutti che l'emergenza è senza precedenti da record, ma le soluzioni definitive sono ancora lontane. Ci sarebbe bisogno dell'intervento straordinario del governo, lo ha confermato l'assessore Caputo, che sta cercando nonostante tutto di mettere toppe al sistema in difficoltà da decenni. Servono tanti fondi, basti pensare che nel 2020 per la sola provincia di Avellino sono stati ristorati danni per un milione di euro e solo in ambito civile, ma soprattutto serve un approccio diverso al fenomeno. I dipendenti pubblici rischiano penalmente nel concedere l'ok a battute di caccia non rispettose di una infinità di leggi. Anche gli studiosi della materia che volessero adottare la cattura come criterio alternativo all'abbattimento senza il supporto di nuove leggi sarebbero passibili di denunce, poiché bisogna intervenire sulla fascia giovane degli animali. Occorre cioè creare una cornice di leggi che metta insieme agricoltura, ambiente, caccia, uffici e politica in attesa di impegni concreti la certezza è che i cinghiali restano molto più prolifici dei politici.